Questo qui, questo non è altro che questo qua, questo, ma c'è un periodo all'anno e questo è questo. Solo che io l'ho spogliato, l'ho spogliato. A uno a uno, con un bastoncino si prende un bastone, diciamo, più grande. Però adesso io faccio vedere, ma non mi succede niente perché il legno è fermo. Questo si fa agosto. Quando è agosto, io lo metto, faccio solo così. Si sente che fa? Perché la... sì, questo è asciutto, questo è fermo, ormai non si fa. Invece il periodo d'agosto, l'ultimo di luglio-agosto, che la vegetazione ci arriva a una piccola mossa, la linfa si ammorbidisce e si stacca talmente facile la corteccia dal legno, dalla parte legnosa. Io, se... però questo lo devo bruciare così, ormai no. Se lei lo vede verde, ma sotto è bianco. Però adesso non viene bene come ho fatto quello lì. Questo è l'unico. Questo l'ho raccolto dopo un paio di mesi in cantina, se ora si comincia un po', ecco, io se lo voglio far scusa.